La passione per l'auto vecchia o l'auto storica prende i trevigiani? Assolutamente sì, c'è un grande interesse, noi facciamo di tutto come Automobile Club Treviso per coinvolgere sempre di più i trevigiani e non solo i trevigiani, tutti quelli della provincia di Treviso che vedo che progressivamente di anno in anno si interessano, si incuriosiscono prima e poi si interessano poi. Anche nella marca cresce l'interesse per il mondo delle auto storiche o d'epoca. Per molti un tuffo nel passato della giovinezza con il primo volante preso in mano, per altri la diversificazione di un investimento che si è azzeccato cresce costantemente negli anni. Ma accanto a questa particolare forma di collezionismo c'è l'autentica passione per la guida ed è a questa categoria che si rivolge la gara di regolarità dell'Automobile Club di Treviso che si rinnova sabato e domenica prossimi per la settima edizione. La settima edizione della marca classica vede partecipi campioni, equipaggi che sono dei campioni a livello nazionale però abbiamo anche la nicchia non solo della classica ma della turistica a cui tutti possono partecipare in modo molto più leggero sotto il profilo ospertivo e meno agguerrito rispetto a quella della invece classica a tutti gli effetti. Non è una gara di velocità ma di regolarità che vede iscritti 49 equipaggi protagonisti del campionato italiano autostoriche oltre ai 25 della categoria turistica. Quasi un centinaio le prove per le due categorie che vedranno sfrecciare con partenza e arrivo a paese passando per Castelfranco e Cison fino al Montello, modelli travolta unici del mondo automobilistico. Abbiamo quella del 1929 che sarà la numero uno peraltro condotta da un Sisti che è il Sisti Wallandi, la coppia che sono i campioni a livello italiano. Cos'è una Lancia? È una Lancia Lambda e che va vista perché di più non dico ma dico che va vista perché è uno spettacolo. E che sia una passione in crescita lo sottolinea il numero di equipaggi femminili iscritti alcuni dei quali hanno scelto la più famosa delle utilitarie prodotte dall'Auto Bianchi. La 112 è una costante diciamo anche molto utilizzata per il tipo di dimensioni che ha che favorisce questo tipo di gara di regolarità. Ci sono tra l'altro quest'anno abbiamo quattro equipaggi femminili e vanno aumentando e anche dei giovani. Questo ci fa piacere perché vuol dire che cominciano ad appassionarsi a questa forma di gara che è una gara diversa, più tecnica, dove non è la velocità che viene riconosciuta come premiale ma è il rispetto dei tempi che vengono dati nei vari percorsi. Grazie a tutti.